Quando c'è la volontà tutto è possibile. Apriamo questo servizio facendo i complimenti ad Isernia. L'amministrazione comunale, il sindaco Brasiello e l'assessore allo sport Galasso, in collaborazione con la società Isernia Calcio 5, che nella prossima stagione prenderà parte al campionato di Serie B, hanno portato al termine i lavori al palafraraccio nei tempi previsti. Il 2 agosto l'apertura del cantiere. Oggi possiamo dire che i lavori sono terminati. Bisogna tracciare le linee da gioco e pulire la struttura. Dal primo di settembre il palazzetto sarà di nuovo a disposizione della città. Niente rinvii e tempi biblici per gli interventi di ristrutturazione, allargamento del campo, che permetterà all'Isernia Calcio 5 di giocare le gare casalinghe ad Isernia, senza migrare in comuni limitrofi. Per festeggiare con la città la riapertura del palafraraccio, il 13 di settembre amichevole di lusso per i bianco celesti, che ospiteranno il Napoli Calcio 5, i partenopei al terzo campionato consecutivo di Serie A, lo scorso anno finalisti anche di Coppa Italia. L'amichevole è stata fissata anche grazie agli ottimi rapporti che intercorrono tra i vertici societari dei due club, che spesso si sono affrontati nel torneo Under 21. I vertici societari dell'Isernia, con il direttore generale del Napoli Stefano Salviante, hanno subito trovato l'intesa per sabato 13 settembre, con fischio d'inizio previsto alle 17. Veniamo al calcio giocato. Ieri è partita la stagione 2014-2015 di mister Cataneo e di suoi ragazzi, che si sono ritrovati a Miranda, location del ritiro precampionato. Oggi si aggregeranno alla squadra anche di Tata, da Lauro, Damiano e Albanese, assenti giustificati ieri per motivi lavorativi. Il club bianco celeste terminerà il ritiro dopo la prima settimana di settembre. Il 6, l'Isernia prenderà parte insieme a Pietracupa e Capracotta, al triangolare inserito nella festa della Madonna di Loreto, festa in programma proprio a Capracotta. Il 6, l'Isernia prenderà parte insieme a Pietracotta,